Via Sandro Pertini, strada interquartieri, azienda Tecnovull, un'azienda di dimensioni importanti che i pesaresi in transito sull'interquartieri hanno visto crescere pezzo dopo pezzo e pennellata dopo pennellata in queste settimane. Un'azienda che non può lasciare indifferenti con questa opera pittorica realizzata proprio sulle pareti della struttura aziendale. Un'opera pittorica importante realizzata da un artista di fama internazionale come Cicos, artista leccese, che ha collaborato con gli studenti del liceo artistico Mengaroni per la realizzazione di questa opera per la quale oggi si è tagliato il nastro alla presenza anche del comune, del sindaco Matteo Ricci e degli assessori Daniele Vimini e Riccardo Pozzi che abbiamo ascoltato in merito a questa importante iniziativa. Questo è un luogo di lavoro che grazie all'iceo scientifico Mengaroni, a un writer importante e alla disponibilità dell'azienda è diventato un luogo d'arte perché oggi abbiamo in una delle strade d'accesso alla città tra le più importanti un'opera a tutti gli effetti di morale si è realizzata con dei richiami importanti ai valori della città quindi con il contributo dei ragazzi, quindi un'opera che ha un impatto importante e che appunto trasforma un edificio di lavoro da una struttura che ha anche una valenza in termini di arte. Una di quelle, diciamo, non è la prima e non sarà l'ultima, nel senso che grazie al lavoro che è iniziato qualche tempo fa insieme a Massimiliano Santini, evoluto dal sindaco, che prevede proprio una riqualificazione, una colorazione di quelli che sono i luoghi grigi della città e quindi siamo intervenuti già su diversi sottopassi altri tre ne coloreremo in quest'anno, più altri interventi importanti sui Morales, penso a quello di Liliana Segre piuttosto che altri interventi importanti che stanno dando una connotazione importante alla città da questo punto di vista. In questo caso ha un valore triplice perché intanto è stato realizzato da un'azienda che sta facendo un grande lavoro nell'efficientamento energetico, per noi è un fiore all'occhiello per la nostra città. Dall'altra perché qui si è trasferito un'attività che spostiamo dal cimitero e questa è una vecchia vicenda che ci consente di migliorare il parcheggio, la viabilità di quell'area, a vantaggio del cimitero ma anche a vantaggio del mercato. Terzo perché è qui su una delle vie principali della città e quindi ha un impatto visivo molto forte e quindi insomma siamo molto contenti grazie a Luzia e a Tecnovull per questo investimento, per il lavoro che fanno. Noi continueremo, quest'anno avremo altri tre luoghi, soprattutto sottopassi che andremo a realizzare con opere di street art e l'obiettivo è che nel 2024 quando saremo capitale della cultura, tra le tante cose che si potranno vedere organizzeremo anche un tour in bicicletta per vedere le tante opere di street art che sono state realizzate e si realizzeranno nei prossimi anni. E dunque per Pesaro capitale della cultura, cultura vuol dire anche arte, arte vuol dire anche street art non solo sui muri urbani ma anche in aziende private. Per un'azienda come la Tecnovull questo abbinamento arte-impresa è senz'altro motivo d'orgoglio. Apriamo qui a Pesaro dopo 15 anni che giriamo per l'Italia, aprendo sedi, siamo 15 Tecnovull ramificate sul territorio dal nord a sud, isole comprese. Era arrivato, eravamo pronti per aprire anche a Pesaro, io da pesarese orgoglioso di essere pesarese e di vivere questo territorio, abbiamo pensato di realizzare qualcosa che fosse un benvenuto, fosse un omaggio alla città di Pesaro che ci ha accolto a questo bellissimo territorio e in più che fosse un omaggio anche alle persone che vivono la quotidianità, transitano davanti a questa strada, l'idea è quella di lasciare un benvenuto a chi entra nella nostra bellissima città e alle persone che tutti i giorni passano qua davanti per le più disparate ragioni. Vogliamo ricordare anche per chi non la conoscesse che cos'è Tecnovull, che cosa produce? Noi distribuiamo e commercializziamo materiali isolanti, termici e acustici per edilizia navale e industria e quindi siamo molto impegnati nell'efficientamento energetico, quindi è un periodo che si vede particolarmente attivi nello sviluppo e nella promozione della nostra attività.